Il ragazzo e la tigre Allora, sì, la fotografia era una parte importantissima del film Abbiamo avuto la fortuna di avere un direttore della fotografia Che a parte che è molto bravo Ma soprattutto era molto motivato E ti spiego là un po' il trucchetto mio, il mio pensiero, cosa è stato Il film è girato nell'arco di un anno E le riprese in realtà non erano mai Parte il Nepal che è stato un po' più lungo Ma tutte le altre riprese andano mai più lunghe di due settimane l'una Ora, se tu vai a un direttore della fotografia di cinema italiana E dici, possiamo fare un film insieme Con un budget normale Io non avevo un budget da Hollywood Avevo un budget normale Possiamo fare un film insieme in cui lavori due settimane Quattro no, due sì, quattro no Quello dici, ma hai sbattuto la testa Allora, cosa ho pensato? Ho visto dei curriculum di direttore della fotografia della pubblicità E ho trovato Nicola Cattani di Rovereto Che anche ama la montagna Molto bravo E ho detto, questo ragazzo qui Ragazzo, avrà una quarantina d'anni Sicuramente fare un film per il cinema è uno step nuovo E magari ci dà l'entusiasmo che ci serve E infatti Nicola ha fatto un bellissimo lavoro E ha accettato di fare questo programma di lavoro Che doveva essere così Perché io dovevo seguire Sani che cresceva, La tigre che cresceva Non potevo fare tutto insieme E quindi quello è stato il segreto Trovare qualcuno della pubblicità molto bravo E passarlo al cinema Claudia, Sani, la vostra intesa è lampante da subito Quindi da dove avete iniziato nel creare l'alchimia Poi il vostro rapporto? That's chemistry between you two That's a strong feeling Where did you start working on it? Ashram? Ashram? Yeah? When you fall down Ok, prima di tutto perché Allora, lui è un attore straordinario È un attore veramente Veramente Istintivamente Ha una potenza interpretativa Notevole E quindi quando è così È facile A parte umanamente Che eravamo Insieme a tanti bambini Almeno inizio al fine Nell'ashram In questa comunità Dove vivono bambini Appunto senza famiglia E quindi io Nei suoi occhi Ho visto subito La mia missione Era Finalmente C'era davanti a me Un bambino da proteggere E comunque Vabbè Ci siamo divertiti Perché durante la lavorazione Lui e appunto La truppa era un po' La sua famiglia E quindi Siamo partiti Ma guarda Semplicissime È stato un click Veramente Naturale Istintivo Un po' dato Dalle nostre Dai nostri stessi ruoli E poi comunque Il suo personaggio È diffidente Non è subito Accogliente Perché lei Non vuole Per forza Forzarlo ad amare Ecco io sono La tua famiglia Lei capisce Che questo bambino Va preso Con le pinze Infatti scappa Lo insegue Poi c'è la storia Della tigre Insomma È tutto Molto Graduale Per cui È stato Molto semplice Perché lui È veramente bravo E lei È molto brava I'm saying Good things About you I was saying It was easy Because me and you At the beginning Of the movie We don't know Ech other And we need To build Relationship First time I'm hearing Of Anna And I'm confused Who she is And then I first time Meet him At shooting And I say She's Anna And then Mr. Kilicci Introduced him And like He's We're biggest Actress In Italy And I know Wow I'm shaking A hand With him And doing Work with him And the first time I saw Like you know Something felt To me And then We start Talking And like Stop shooting Together Then in Orphanage It's a great Journey I cannot tell you Like It's a feeling I don't know But We make Strong bond In between That Like we did Lots of adventures You know That scene Of the mountain When he Come behind me Like He's like It's very good And I'm like He's coming Behind me I'm going there He's coming Behind me And like Chasing He has to Save me And like It's a great Bond Allora innanzitutto Quando mi è stato detto Che il personaggio Che dovevo incontrare Si chiamava Anna Ho pensato Ma chissà chi sarà Poi L'ho incontrata Brando mi ha detto Che era una famosa Attrice italiana Le ho dato la mano C'è stato proprio Un click istintivo È un feeling Che si sente Non si può nemmeno Spiegare a parole Lì Nell'Orfanotrofio Dove abbiamo lavorato Abbiamo iniziato a girare Si è creato proprio Questo legame Molto forte Poi c'è La bellissima La scena In alta montagna Quando io scappo Dal bracconiere Con la tigre Che mi insegue Il bracconiere Mi insegue Quindi Lei mi cerca Lei è lì Per salvarmi È sempre vicino a me Quindi Un grande legame D'amicizia La prima volta Vi ho visto L'attore di Jeremy E mi piace You know I like L'attore Wow She acts Very good And like You know It's First time So the actors It's like Very great Very great We are in good hands Good choice Yep Quando l'ho vista recitare Ho detto Mamma mia che brava attrice Fantastica Thank you Grazie 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 Grazie